A presente quella barzelletta? Com'è che era? Un uomo riceve una telefonata? Ah no, un uomo sente alla radio l'annuncio di un pazzo che guida a contromani in autostrada e dice uno? Tutti! Ecco, io mi sento così. Così come? Come se andassi nella direzione opposta rispetto a tutti gli altri. Che poi non è nemmeno questo il problema. Che se mi succedesse di andare contromani in autostrada credo che semplicemente accosterei. Quello che proprio non sopporto sono gli ingorghi o ancora peggio quelli che ti sfananano per superarti per forza in autostrada. Lei per caso non sarà mica uno di quelli che sfananano? No. Ma lei che macchina ha? Io non guido. Ah non guida? Allora viene in metro? Nemmeno. E allora come viene qua? Non stiamo parlando di me. No, infatti. Io la metro non la prendo quasi mai. È sempre affollata. Nei posti affollati mi sembra quasi di soffocare. L'unico posto in cui riesco ad andare è il cinema. Sono tutti in silenzio e sembra di essere da soli. Lei va spesso al cinema? Purtroppo no. Non ho molte occasioni. Dottore, ma lei esce mai di qua? Sta di nuovo cambiando il discorso. Purtroppo credo che il nostro tempo sia terminato oggi. Bene. Allora ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno dottore. Buongiorno Maria Rosaria. Come è andata col paziente della 6? Non saprei. A quest'ora mi sarei aspettato dei progressi più evidenti, ma in questi casi bisogna essere paziente. Comunque nel suo studio l'aspetto appena disponibile. Va bene, grazie. Buona giornata. Buona giornata a te. Buona giornata a te.